Un trapianto è qualcosa che cambia la vita, ma oggi siamo qui per cambiarla nuovamente, per tornare a una vita normale. L'opportunità di essere qua mi è stata data dal presidente dell'Associazione Donare Vita, Gaetano Alessandro, che mi ha seguito in questo percorso, quindi nel momento in cui ho scoperto della mia malattia, fino ad oggi, con questa nuova avventura, questa riabilitazione che è veramente importante, fondamentale, fondamentalissima per noi trapiantati. Perché è questa quella che poi ti fa rimettere in forma, in forze fisiche, per poi procedere nuovamente ad una vita normale, perché poi è quello che si deve cercare di arrivare a fare quello, di arrivare a fare nuovamente ciò che si faceva prima. Grazie al percorso riabilitativo si è ripresa in poco tempo? Io mi sono ripresa, sì, grazie a un percorso riabilitativo che purtroppo ho iniziato pure molto tardi dall'intervento. Una forza interiore che mi ha spinto a riabilitarmi, diciamo, prima possibile, perché volevo tornare alla mia vita di sempre, alla mia vita di prima. C'è un messaggio da lanciare a uomini, a donne, giovani come lei, che magari stanno passando la stessa cosa? Cosa direbbe? Io dico di non perdere mai le speranze, perché veramente è fondamentale credere che i miracoli avvengono, che i doni comunque esistono, ci sono. Io invece invito, che purtroppo qui in Sicilia veramente non abbiamo ancora questa sensibilizzazione, invito tutti a donare. Donare, donare, perché si salvano appunto le vite, cioè io sono un esempio vivente. Quando appunto noi perdiamo, cioè io avevo perso le speranze, io non avevo più, avevo pochissimi giorni di vita quando sono arrivata al momento appunto di attivare una lista urgente per avere il travianto. Con il travianto si vive un'altra vita, si riesce a fare tutte le altre cose che prima non si riusciva a fare per problemi calzieci importanti. E quindi grazie a questa persona che io non ho conosciuto, però devo dare la mia vita diciamo.